E ora il volley nel recupero casalingo della nonna giornata di ritorno, la Lube piega Cisterna, ottava vittoria consecutiva in Superlega per i Civitanovesi. Vediamo per Paolo Rivalta. Sono arrivati belli pimpanti, noi forse non eravamo preparati, ma questa è la Superlega, questa è la pallavolo che è di alto livello e noi penso che abbiamo fatto uno switch dal secondo set in poi. Non è un cliente comodo, Cisterna, reduce dal blitz vincente a Modena e la caccia di punti sicurezza per puntelare la classifica. L'inizio gara conferma lo stato di forma dei laziali, nove punti d'Irlich nel primo set, otto mar, murro e servizio della Top Volley lascia nel segno e la Lube soffre. Civitanova scende fino a meno 11, poi recupera qualcosa ma perde comunque il primo, 17 a 25. Con Guantorena lasciato di nuovo in tribuna dopo la convocazione di domenica scorsa e dal secondo set che inizia la vera gara della Lube, via via sempre più quadrata. Piano piano la squadra ha trovato anelli della catena che compongono il gioco, qualcosina in difesa anche se lì dobbiamo continuare a cercare di crescere perché credo che la squadra debba e possa fare di più e siamo riusciti a vincere la partita che era poi quello che ci interessava di più. I civitanovesi salgono di livello e chiudono in quattro set a 21-18 eventi parziali, 20 punti Lucarelli MVP della serata, 14 Zaitsev e Simon, 12 Jant. La Lube consolida il secondo posto e incamerato questo recupero ne giocherà un altro sabato sera a Modena. Sarà una partita molto bella anche per tutti, per la classificazione, per il punteggio, per il riverdello, quindi sarà bello quello posto lì anche, è bello da giocare, quindi sarà una grande partita e speriamo di uscire dopo con un risultato positivo.